L'amore per l'Africa è nato all'improvviso. Un continente pieno di storie e di tradizioni. Chi di voi sa dove è l'Africa? Quando ho conosciuto questo ragazzino qui. Per me ho seco bulghi, spero di tollerci. Sì, ma è importante quello che stai facendo per questi ragazzi. Stai aprendo delle strade. Vado ad insegnare in Africa, vado ad insegnare in Africa. Perché devo tornare? Mi sei mancato! No, lo so, guardo. Fulvio, tu non puoi non dirgli la verità. Io non posso dire delle bugie, non capirebbe. Hai sempre fatto quello che volevi fare te. Sei mai chiesto cosa voglio fare io. Giulio. Giulio cosa? Che succede? Fesseri, ci addivido meglio. No, infatti sta meglio. Forse devi dirmi qualcosa? No, fattene la favola. Vattene! Vattene! E' che bisogna sapere amare, sai? Non è importante trovare la persona giusta. Ma innamorarsi. Grazie. E' che bisogna sapere. Ma innamorarsi. E' che bisogna sapere. Non è importante trovare la persona giusta. Innamorarsi. Non è importante trovare la persona giusta.